buon pomeriggio e benvenuto in questo nuovissimo video relativo ad amazon come sempre prima di tuffarmi al video di oggi voglio ringraziarti davvero di cuore per la tua presenza per il tuo tempo per tutto questo processo insieme come ben sai ogni martedì esce un nuovo video di valore sul mondo amazon seller ovviamente se non sei iscritto al canale mi raccomando iscriviti subito e lascia un like se se trovi insomma che questi contenuti ti diano del valore bene oggi di cosa andiamo a parlare come sempre come puoi vedere nel titolo e nella copertina del video ovviamente ti do un po subito un'idea di quello che vado a trattare comunque sia questo è un aggiornamento per quanto riguarda le politiche e pr di amazon perché ho già fatto un video a riguardo tempo fa che ti linko qua sopra ti comparirà oppure sotto nei video consigliati per quanto riguarda le pr dove ho spiegato bene un po tutta la nuova normativa come funzionava eccetera ma c'era tantissima confusione e ancora oggi c'è tanta confusione su come essere in regola con le pr le pr non è altro che la normativa te lo faccio te la faccio veramente breve che regola sostanzialmente lo smaltimento degli imballaggi delle apparecchiature elettroniche insomma di alcuni alcune tipologie di prodotti e degli imballaggi in ogni paese quindi andando ad aderire anche perché è obbligatorio farlo quello che succede è che andiamo a essere in regola sostanzialmente siamo in regola con tutto tutta questa tutta questa normativa cui che sembra molto complessa ma oggi ti faccio vedere come rendere il tutto semplice allora andiamo per gradi qui come vedi siamo nel seller central e amazon fa uscire questa notizia dove dice 18 ottobre quindi due giorni fa sto registrando che il 20 dice i servizi pr quindi per questa normativa qua sono ora disponibili per spagna e austria attenzione che i numeri i codici pr al momento su amazon quindi se si vende in questi paesi non solo vengono richiesti in spagna e austria adesso ma già prima venivano richiesti in germania e francia però andiamo per gradi ovvero quelli obbligatori cioè i registrazioni obbligatorie che dobbiamo fare per andare a fornire questi codici che poi sono non sono altro che i numeri di registrazione da dare ad amazon sono obbligatorie per la germania quindi la germania l'unico paese che ti richiede una registrazione obbligatoria al di fuori diciamo di amazon per essere in regola quindi se vendi in germania attenzione che devi registrarti in modo obbligatorio e questa cosa qui come si fa ora nello scorso video abbiamo parlato di listen zero e altri siti insomma un po diciamo da studiare poi in tedesco da tradurre insomma cose non molto semplici e qui invece amazon questa volta si è evoluto in un certo senso e quindi in questo aggiornamento qui di video ti faccio vedere esattamente come si fa eventualmente per ottenere un codice pr tedesco in modo semplice come si fa dopo averti fatto tutto questo pippone sostanzialmente qua ti mette un link amazon registrati ai servizi pr su amazon e te cliccandoci ti si aprirà questa pagina che ti dirà appunto di registrati adesso ti metterò poi il link a questa pagina direttamente in descrizione comunque sia ti dà un po un'idea ti spiega un po tutta la struttura tariffare ad esempio in germania se vogliamo andare a vendere ti dice sostanzialmente come 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 viene calcolata la tariffa quindi la somma delle tariffe dei fornitori servizi esterna ad amazon più quella di gestione di amazon fanno la tariffa totale 45 euro ad esempio per le registrazioni una tantum dell'epr ad esempio in germania poi ovviamente variano da categoria a categoria e anche per l'apparecchiatura eccetera poi sotto in fondo sostanzialmente ci sono degli esempi quindi se uno va a pagare eccetera ma questo poi ovviamente ce lo dirà meglio anche il fornitore dei servizi ovviamente passando per amazon dovremmo pagare come vedi una tariffa anche ad amazon tutto questo verrà debitato direttamente sul tuo account seller e se devi versare l'iva quindi se non sei iscritto ai servizi va di amazon ad esempio se il regime forfettario quello che succede è che l'iva verrà aggiunta le fatture comunque ti verranno prima di essere addebitate inviate per email in modo tale che te potrai visionarle ovviamente ogni tipo di categoria e di tipologia di epr può avere delle dichiarazioni in tempi diversi c'è chi possono essere possono essere versate queste tariffe trimestralmente semestralmente o annualmente comunque sia questo è l'aspetto gestionale qui ci sono degli esempi qui ti fa vedere anche per categoria quindi appunto cliccandoci tutta la cosa ma poi nella pratica come funziona qui ti dice iscriviti a partire da 70 euro ma effettivamente quanto ti costa al di là del costo che cliccando poi su iscriviti ora quello che succede è che amazon ti riporta direttamente una pagina dove scegli per quale paese vai a registrarti appunto e come ottenere questi codici qua al di là di tutto questo il discorso è che amazon ha semplificato il processo quindi adesso è possibile direttamente da questa pagina andare a registrarti tramite amazon quindi è vero che magari è un costo in più di amazon e magari alcuni di voi come te magari potresti dire sì ma mi costa di più però anche vero che è molto più semplice ottenere quel codice e stare tranquillo ecco e per la germania al momento è l'unico codice obbligatorio al momento richiede ma essendo è stata aggiunta anche l'austria anche per l'austria dovrai probabilmente fornirlo quindi eventualmente se vendi in questi paesi devi ottenere questo codice in base alla tua categoria quindi cliccando come hai visto nel pulsante di prima poi andando ad esempio in germania scegli che cosa devi per cosa ti registi quindi se vendi prodotti che hanno batterie metterai batterie apparecchiature elettronico imballaggi e basta nel caso fossero prodotte ad esempio per la casa senza batterie facciamo finta imballaggio e poi clicchiamo su continua con la registrazione lucidice il costo e il fornitore di servizi quindi in questo caso diventa più semplice poi alcuni di voi si sono lamentati o direttamente nel gruppo facebook in cui ti invita ad iscriverti e troverai il link qui in descrizione magari di avasc che comunque era un po in ritardo con il rilascio dei codici e quindi magari puoi scegliere un altro fornitore come bella cucul questo qua se si pronuncia così ovviamente magari ho sbagliato però fatto sta che usare un altro fornitore di servizi andare avanti e e poi ovviamente andai a contattare direttamente il fornitore che ti spiegherà bene come funziona eccetera ma non solo amazon mette anche a disposizione una lista di fornitore di servizi esterni quindi questa quest'altro link qui che ti metterò anche questo in descrizione dovete poi per germania e francia sceglierti un punto fornitore e fornire quel codice lì però attenzione che al momento è obbligatorio fornirlo quindi che ti affidi a un partner esterno per la germania e per l'austria mentre per francia e spagna per questo le ho tralasciati amazon può farti diciamo da tramite e fare in modo che tutto questo venga automatizzato quindi fare in modo che tutte le tariffe pr quindi essere in regola con questa normativa e pr ci pensi direttamente amazon per conto tuo ripeto per francia e spagna mentre per austria e germania al momento sembrerebbe che tu debba fornire questo codice e non lo farà amazon per conto tuo comunque qui puoi scegliere ad esempio un fornitore quindi in questo caso ci interessa tenere un codice per la germania perché per la francia lo fa in modo automatico amazon e andiamo a vedere tra poco come funziona la parte automazione di amazon ma per la germania ad esempio ti puoi scegliere un fornitore di servizi all'esempio qui c'è di nuovo quello di prima infatti quello abbiamo visto adesso ma ce ne sono altri ad esempio questo che magari tratta piccoli dispositivi può essere più adeguato magari se uno all'inizio comunque non ha grandi volumi è un esempio ovviamente se uno dei dubbi ci clicca clicchi sul fornitore qua c'è una descrizione dice le categorie e anche le lingue supportate anche l'italiano contatti for contatti il fornitore gli vai a chiedere quello che ti pare e ti metti d'accordo con lui per registrarti alle pr quindi come vedi invece di tutta quella trafila iniziale dell'epr oddio come faccio a registrarmi qui di là come vedi il processo è molto più semplice il ripeto questa procedura di ottenere un codice è sostanzialmente obbligatoria quindi questo codice va fornito per germania e austria mentre francia e spagna puoi non dire nulla quindi poi non fare niente amazon lo farà per conto tuo e lo farà tramite un servizio che si chiama pagamento a tuo nome ti metterò il link anche di questo in descrizione sostanzialmente amazon verserà questi ecocontributi si chiamano per conto tuo alle autorità di spagna e francia per quanto riguarda il discorso ad esempio di registrazione in germania ovviamente i costi quali ai cui presenti quindi quanto andrei a pagare ad esempio oppure parli col fornitore di servizi per capire esattamente quanto ti costano in base alle categorie ovviamente sono tutti i costi variabili perché dipende dalle tue categorie di prodotto dipendono da quanto vendi dal volume eccetera eccetera e quindi importante un contatto di amazon essendo che fa tutto per conto tuo quello che succede è che farà per conto tuo tutto quello che invece pagherai dall'altra parte quindi farà l'iscrizione automatica al servizio ti preparerà dei report inviare il report e pagare il contributo quindi l'eco contributo per conto tuo e vengano debitati sul tuo account venditore sostanzialmente ci sono tantissimi vantaggi ovviamente tutto molto più semplice ci sono dei costi sempre di servizio di amazon che tipo vanno da un 24 euro 99 l'anno più il 3 per cento dei contributi ecologici versati ecco e qua sotto ovviamente ci sono poi delle tabelle più chiare sui costi quindi qui ci sono degli esempi tipo per imballaggi facciamo finta qui pagherai 49 e 90 questo è un esempio di eco contributi quindi questo è un costo variabile però annualmente devi anche aggiungerci 26 e 49 sono i 24 e 99 l'anno più il 3 per cento di tariffe delle tariffe del contributo ecologico di 3 per cento di 49 e 99 aggiunto a questi 24 e 99 che fa 26 e 49 aggiunto quindi 26 e 49 più 49 90 fa questa cifra qui ovviamente un esempio sono andato un po veloce poi te lo rileggi con calma ti metto il link in descrizione importante che se ti iscrivi nel 2023 il primo anno come vedi qua non pagherai niente di costi di servizi per quanto riguarda ripeto francia e spagna se vende in questi paesi qua quindi si inizia a vendere nel 2023 in questi paesi qua amazon non ti farà pagare niente di servizio mentre di ecocontributi ovviamente sì comunque sia c'è un'altra pagina e anche di questo relativo al pagamento per conto tuo sostanzialmente che mette a disposizione amazon dove sotto diciamo ci sono un po di tariffe più chiare per quanto riguarda gli ecocontributi che andrà che andrà a pagare per conto tuo e che ovviamente verranno addebitati sul tuo account e qua sotto appunto vedi per ogni categoria tipo batterie imballaggio arredamento ti dice in base a quanto vendi quindi un po più chiaro rispetto a questo modellino qua sotto in base a quanto vendi ti dice quanto va andresti a pagare di ecocontributi quindi qui non c'è il servizio annuale che hai visto di qualche comunque dovrei aggiungere di 24 99 ma ovviamente c'è l'eco contributo che comunque è una cosa che a te importo ovviamente in base al tipo di prodotto che stai vendendo ovviamente stai vendendo ad esempio imballaggi sarà diverso rispetto a rispetto a apparecchiature elettroniche quindi recap molto semplice e pr come vedi è snellito cioè il processo è più snello nonostante i dislike qua sotto della notizia il processo è più snello perché mentre prima per registrarsi avere questo codice era complesso ora invece puoi usare direttamente i fornitori di servizi di amazon che ti permette appunto di scegliere e quindi per quanto riguarda la germania è una lista anche più completa della francia non ci interessa perché abbiamo visto che puoi farlo automatizzato e per il resto qui lui ti fornisce direttamente appunto dire dei dei fornitori di servizi per registrarti ottenere questo codice per ad esempio la germania e l'austria dove hai visto che invece è richiesto ovviamente solamente se ci vendi in questi paesi se non ci vendi non ti devi registrare chiaro quindi per la germania e per l'austria in questo modo direttamente da questa pagina puoi ottenere un codice invece di andare nella lista se vuoi fare tutto da qui direttamente ottieni il codice da qua dentro selezioni la categoria e vai avanti e fa registrazione col fornitore se invece vendi in francia in spagna a quel punto puoi far automatizzare tutto ad amazon e come abbiamo visto qui ci sono degli esempi di ecco contributi vai a pagare più eventuali tariffe qua ovviamente ti mette in modo semplice chiaro quanto andrà a versare per conto tuo e quindi quanto ovviamente ti va a costare poi a te il servizio ripeto nel 2023 se la prima volta e vai a vendere è gratuito le commissioni di servizio per quanto riguarda francia e spagna con il pagamento a tuo nome quindi queste sono le due strade ripeto per essere chiaro voluto fare un aggiornamento perché mi sembrava doveroso viste queste cose importanti comunque sia per la spagna ancora ci sono delle novità entro dicembre 2023 dovrebbero essere rilasciate le tariffe anche per la spagna adesso ancora non è tutto chiaro non sono ancora ben chiara entro dicembre 2023 verranno rilasciate comunque sia tutto verrà aggiornato questi sono i link ti basterà riguardare questo video andare a vedere eventualmente le tabelle questi sono i due le due strade con numeri che devi ottenere germania austria automatizzato francia spagna per questo video direi che è tutto noi ci vediamo in un prossimo video di valore relativo ad amazon il prossimo martedì grazie ancora di cuore grazie 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 grazie